No ma questa è la serietà Giovanna, ciao, buongiorno, sono Mirko, sono Mirko, ciao, ascoltami, si è presentato il signor Angusti, nonostante abbia avuto un intervento, comunque è in situazioni precarie dal punto di vista della salute, voi non vi presentate in ufficio dopo la porcata che avete fatto da venerdì? Allora io mi auguro che quanto meno ci mettiate la faccia, ci saliamo noi dalla direzione, diteglielo già che andiamo a Milano, ma io non ce l'ho né con te né con Monica, però non avete neanche avuto la faccia di presentarvi, voi sapevate tutto, voi sapevate tutto, voi sapevate tutto, voi sapevate tutto e lo sapevano i sindacati, eravate al corrente da mesi, eravate al corrente da mesi, avete fatto un incontro privato là in tempo con i sindacati, con la signora Tosetti, hai capito, ho capito, voi eravate al corrente di Tosetti. E meno la faccia di dire, cercatevi un altro lavoro.